Vai, deve essere immortalato, vai, via. Io dico, la zia Tota alias Vittoria, non Vittoria alias a zia Tota, è tra le più fortunate di avere qui oggi tutti i fratelli, con gli altri, con gli altri, e per gli altri il cognato più giovane, e viva Tota, anzi, zia Tota.